Firmato Picpus di Georges Simenon. Seconda parte. Parigi è invasa da torpedoni stracarichi di stranieri e le guide urlano negli altoparlanti. Il termometro segna 35 gradi all'ombra e nelle piscine non c'è più modo di fare un tuffo, visto che i bagnanti ci stanno pigiati come sardine in scatola. Fammi portare su una birra, anzi due, ordina Megre all'uscere. Mezzogiorno, torna Luca. Per quanto riguarda il cabriolet verde, niente. A ogni buon conto ho copiato l'elenco degli abitué, visto che è un circolo regolarmente registrato. Tutt'altro che allegro, però, l'ambiente è piuttosto pretenzioso, ma le giocate non sono un granché a giudicare dai libri contabili. Per lo più si puntano pochi spiccioli, tranne qualche raro cliente che gioca davvero. Gente sola, senza famiglia né amici, oppure persone infelicemente sposate che vanno lì a passare la serata per starsene fuori di casa. La contessa mette soggezione a tutti. Si danno tante arie da gente di mondo, ma quanti sospiri e quanti gemiti per saldare un conto di una trentina di franchi. Lecluagin ci ha mai messo piede? Nell'elenco non figura. E sua moglie? Sua figlia? Ho chiesto, non le conoscono. E la signorina Jeanne? È questo il punto. Quando le ho mostrato la foto mi è parso che la contessa trasalisse. L'ha guardata a lungo, molto a lungo. Poi ha chiesto con voce un po' alterata. Chi è? Il cameriere della Brasserie Dauphin, che conosce gli uffici della polizia giudiziaria come i tavoli del suo locale, ha posato due birre sulla scrivania. Megreni ha bevuta una tutta ad un fiato e ha già l'altra in mano. Coglie lo sguardo di Luca e mormora. Ti chiedo scusa. Ha troppa sete. Tanto peggio per Luca. Poteva benissimo prendersi qualcosa di fresco per strada. Mi chiedo... Suona mezzogiorno. Centinaia di migliaia di parigini approfitteranno del sabato pomeriggio libero per correre al mare o in campagna. Pronto, centralino? Mi chiami mia moglie. La seconda birra è quasi finita. Le due pipe appoggiate sulla scrivania sono calde. Sei tu? Cosa? Ma no, non telefono per dirti che non torno a pranzo. Al contrario, arriverò, diciamo, tra un'ora. Intanto che aspetti prepara la valigia gialla. Quella gialla, sì. Andiamo a passare il fine settimana sul fiume. Come? A Morsang? Sì, a tra poco. E io che cosa faccio? Chiede Luca, ben sapendo che lui non trascorrerà certo la domenica in campagna. E Megreni, con una matita in mano, distribuisce i vari incarichi. Rucolancourt, il cabriole verde, interrogare tutti i negozianti, tutti quelli dei bistrò, boulevard de batignolle. Anche se non servirà a nulla, bisogna stare alle calcagne di Lecluagen e magari far sorvegliare la Place des Vosges. Mettere un uomo vicino alla fontana, caso mai a qualcuno venga in mente di fare una visitina all'abitazione del povero Mascouven. Dimenticato niente? Qualche disposizione al centralino. Registrare tutte le comunicazioni telefoniche della contessa e dei Lecluagen, non si sa mai. Quanto all'uomo con i due denti d'oro, se ne occupano la squadra mobile e la buon costume. E domani, negli ippodromi. A lunedì, vecchio mio. Buon divertimento, capo. Megreni si ha già messo il cappello quando si ricorda di un'altra cosa. Senti, c'è anche una certa signorina Bert. Magari ha una sciocchezza, ma non importa. Lunedì voglio sapere tutto quello che avrà fatto. È carina, capo? Un fiore e sembra anche un tipo affettuoso. Infine, dopo aver salutato tutti, Megreni scende le scale polverose della polizia giudiziaria. Capitolo IV. I due luci del signor Blaise. Ci sono giorni che, per oscuri motivi, sembrano riassumere in sé un'intera stagione, un periodo della vita, tutta una gamma di sensazioni. La notte di sabato e la successiva domenica trascorse a Morsang rappresentarono per Megreni la quintessenza dell'estate, della vita spensierata in riva al fiume, della gioia semplice e schietta. Le lampade che dopo cena venivano accese sotto gli alberi, il fogliame che era ormai di un bel verde scuro, come negli arazzi antichi, la foschia biancastra che saliva dalla superficie mutevole della senna, le risate intorno ai tavolini, le voci sognanti degli innamorati. I Megreni erano già andati a letto allorché qualcuno aveva portato fuori un grammofono e per un bel po' si era udita, insieme allo scricchiolio della ghiaia sotto i passi di quelli che ballavano, una gradevole musichetta popolare. Quella notte il commissario aveva dormito poco o niente. Le camere del beau pigeon erano situate nella dépendance che con la scala esterna di ferro e la balconata che correva lungo tutto il primo piano sembrava quasi una nave. Ed erano piccole come cabine, imbiancate a calce, con il letto di ferro, la toilette e il guardaroba in legno bianco guarnito di una tenda di creton. Data la stagione, tutti dormivano con le porte e le finestre spalancate sulla notte d'agosto. «Hai abbastanza posto?» mormorò la signora Megre stringendosi contro il muro. «No che non ce l'aveva. Il letto era troppo piccolo per due. Non faceva in tempo ad assopirsi che subito veniva bruscamente svegliato da qualche rumore. Verso le tre fu lo sciacquio dei remi di una barca che si allontanava, quella di Isidor, l'uomo a tutto fare della locanda che andava a tirare sulle nasse. Più tardi il pianto di un bambino. Tra gli ospiti c'erano diverse coppie giovani, due dentisti, un funzionario delle assicurazioni e alcune vandeuse di grandi sartorie. Era un ambiente allegro alla buona. «Dove sei?» La signora Megre intravide nella penombra suo marito, con le bretelle abbassate, i gomiti sul parapetto e un filo di fumo azzurrino che si levava dalla pipa. «Domani poi ti toccherà dormire il pomeriggio!» Frammenti di pensieri. La signorina Jeanne veniva spesso al Bopigion. Ballava anche lei. Gli ospiti della locanda ignoravano la sua professione e lei fra l'altro andava in canoa con la moglie del dentista, la signora Rialan. Dall'altra parte della Senna passò un treno. Tornò a riva senza fare rumore la barca di Isidor, un tipo alto e magro con gambali di cuoio, giacca da cacciatore e baffi spioventi. L'uomo accese la luce della cucina e portò dentro una cesta piena di ghiozzi e di lasche. Intanto qualcuno cominciava a svegliarsi. Da una camera del pian terreno uscì un pescatore, che caricando la prima pipa della giornata andò a cercare i suoi arnesi nel capannone. Ne arrivò un altro, si strinsero la mano. Isidor tirò fuori qualcosa dalla sua barca, salì su un'altra imbarcazione color verde chiaro verniciata di fresco e infilò il pacco nel gavone. Il tutto aveva un che di rituale, come se ogni domenica di sole portasse con sé gli stessi pescatori, le stesse coppie, le stesse partenze all'alba. Dopo aver asciugato la barca umida di rugiada, Isidor andò a prendere delle lenze e delle canne da pesca e le sistemò con cura, mentre un buon odore di caffè si spandeva dalla cucina, dove nel frattempo era scesa una cameriera tutta spettinata con addosso soltanto il camice. A un tratto, Negrè vide uscire dalla camera attigua alla sua un uomo di mezza età, dall'aspetto tranquillo e molto curato, il quale, dopo avergli rivolto un breve cenno di saluto, scese giù per la scala di ferro. Doveva essere il signor Blaise, uno dei clienti più affezionati, a quanto gli aveva detto la padrona della locanda. In cucina gli stavano preparando il cestino con il pranzo, mezzo pollo, una mezza bottiglia di bourgogne, del formaggio, un po' di frutta, una bottiglia di acqua minerale. Isidor lo accompagnò fino alla sua barca, sulla quale era montato un motore con accensione a strappo. Era quasi giorno fatto. Senza che nessuno li vedesse arrivare, altri pescatori, venuti probabilmente dal paese di fronte, si erano piazzati sulle rive del fiume in mezzo agli alberi. Il signor Blaise, seduto a poppa da solo con la sigaretta fra le labbra, accese il motore e si allontanò controcorrente, trascinando nella scia dell'imbarcazione la lenza con l'esca artificiale per i luci. Dormito bene? Sì, e lei? L'ambiente si stava animando. C'era gente in pigiama o in vestaglia che andava e veniva, e le due cameriere, ora in divisa, entravano nelle stanze con i vassoi della colazione. Dove sei, Megre? Cosa stai facendo? Niente. L'indovina. Strano che la signora Roa sia andata da lei con le tinche proprio pochi minuti dopo che era stata uccisa, e ancora più strana la presenza in cucina del vecchio Lecluagen, rintanato dietro una porta di cui non si trova la chiave e che sostiene di non sapere niente. Ci sono dei bambini che fanno colazione seduti attorno ai tavoli sotto gli alberi. Alcune coppie in abiti succinti trasportano delle canoe verniciate, e un giovanotto con gli occhiari dalle lenti spesse alza la vela di una barchetta azzurra. Non vai a pescare? No, soltanto alle nove passate, Megre si decide a farsi la barba e a vestirsi. A colazione mangia un po' di salame e beve un bicchiere di vino bianco. La senna è solcata a perdita d'occhio da barche a motore, piccole barche a vela, sandolini, canoe, e ogni 50 metri c'è un pescatore immobile. Le ore scorrono lente come l'acqua del fiume. Stanno già preparando i tavoli per il pranzo, e da Parigi arrivano diverse macchine che non trovano posto nel cortile della locanda. La signora Megre, che non riesce mai a stare con le mani in mano, si è portata a un lavoro di ricamo. Visto che sono in campagna, per principio si è seduta sull'erba, anche se tutto intorno ci sono delle poltrone. Le canoe rientrano l'una dopo l'altra, e anche qualche pescatore, ma i più fanatici, come il signor Blaise, hanno con sé i cestini per il pranzo, il quale signor Blaise deve essere risalito di parecchio nella conca verso Sandport, perché la sua barca non sia vista per tutta la mattina. C'è da dire che un buon tratto della sponda opposta, a partire dalla curva, è invaso dalle canne, che conferiscono al paesaggio un tocco di esotismo, facendone una sorta di giungla acquatica, dove agli innamorati in canoa non spiace sicuramente perdersi. Isidore ha provveduto a tutto, ha travasato il vino, è andato in auto a Corbei a comprare la carne, ha riparato una barca che faceva acqua. Sono le tre. La signora Maigret lancia ogni tanto un'occhiata protettiva al marito appisolato in poltrona, pronta a zittire chiunque rischi di disturbarlo. Ma lui non dorme poi così sodo, visto che ha sentito lo squillo del telefono. Guarda l'orologio, si alza e raggiunge la casa proprio nel momento in cui una cameriera dalla soglia chiama. Il signor Maigret ha il telefono? È lui ca. Il commissario l'ha incaricato di tenere sotto controllo la casa di Boulevard de Batignolle e di telefonargli verso le tre. Pronto, capo? Ma la sua voce, ahimè, ha un tono contrito. Mi è successa una cosa spiacevole, anche se avevo preso ogni precauzione. Fin da stamattina mi ero accorto che la tenda di una delle finestre si muoveva, ma non possono avermi riconosciuto, dato che mi ero travestito da mendicante e... Imbecille! Come? Cosa dice? Alla polizia giudiziaria lo sanno tutti che Maigret detesta i travestimenti. Ma come impedire a Luca, che ne va matto, di recitare una parte? Per farla breve, capo, verso le undici? Chi è uscito? La signora, senza neanche guardarsi in giro, si è diretta verso Place Clichy e ha preso il metro. Io l'ho seguita e le giuro... Dov'è che ti ha seminato? Come fa a saperlo? È scesa alla fermata Saint-Jacques. Pensi un po'. Una strada completamente deserta. Davanti all'uscita del metro c'è un solo taxi. Lei naturalmente ci sale e quello si allontana. Io ne ho cercato un altro per dieci minuti, ma non c'è stato verso di trovarne. Accidenti. Mi ero segnato il numero di targa. Beh, capo, era una targa falsa. Nei registri di immatricolazione non c'è. Mi sono cambiato e sono tornato in Boulevard de Batignolle. Adesso almeno sei vestito da Luca? Sì. La portinaia mi ha detto che la signora Lecluaghe non è ancora rientrata. Il vecchio probabilmente è chiuso in camera sua dal momento che non è uscito. Neanche la figlia. Dunque, in una Parigi deserta, con strade e viali che sembrano più larghi, più luminosi, la signora va a scegliere proprio Boulevard Saint-Jacques, uno dei più lontani da casa sua. Maigret si ha fatto pensieroso. Va bene, borbotta. Che cosa devo fare? Aspetta lì. Telefonami quando rientra. A proposito, mi raccomando, osserva bene le sue scarpe. Sono curioso di sapere se saranno impolverate. Ho capito. Non è vero. Luca non ha capito un bel niente. Del resto, neanche Maigret sa di preciso che cosa ha in mente. Esce dalla cabina, gironzola un po' per la locanda, ricambia il sorriso della signora Aroua, che però è un sorriso mesto. Se penso a quella povera donna, commissario. Conosceva in modo particolare qualcuno dei suoi clienti? No, non mi pare. Era una persona piuttosto riservata. Ecco, quello là era il suo tavolo. Ogni volta che lo guardo mi vengono le lacrime agli occhi. Adorava i bambini. Perciò stava spesso con la signora Rialan, la moglie del dentista, che ne ha due, Monique e Jean-Claude. Adesso Maigret è sulla porta, ma non ha più il volto disteso di chi si sta godendo una bella domenica. C'è un piccolo dettaglio che lo turba e lo rende perplesso. La faccenda di quell'unico taxi al metro Saint-Jacques. Perché è evidente che chi ha giocato quel tiro a Luca non è certo un bambino e neanche un dilettante. Se la magra e nervosa signora Lecluaghen non è scomparsa definitivamente, cosa di cui il commissario è convinto, perché ha sentito il bisogno di sottrarsi per qualche ora a qualsiasi sorveglianza. Per incontrare qualcuno? Per mettere al sicuro dei documenti? Per? A un tratto Maigret sente in lontananza il ronzio insistente di un motore. Subito dopo distingue nel pulviscolo illuminato dal sole la prua sollevata della barca e la sagoma impassibile del signor Blaise, che con una curva elegante accosta al pontile e si ferma. Un paio di curiosi si avvicinano all'imbarcazione, come sempre succede all'arrivo di un pescatore. Accorre anche Isidore. Ha fatto buona pesca, signor Blaise? E lui, con l'aria non curante di chi ci è abituato, butta lì. Due lucci, neanche male. Apre il gavone e sopra un panno ecco i due pesci, avvolti nelle foglie perché si mantengano freschi. Il signor Blaise ha incrociato lo sguardo di Maigret e come al mattino gli rivolge un saluto discreto. Quando si alloggia nella stessa locanda, in campagna, scende dalla barca e si dirige lentamente verso la sua camera. Maigret non ha mancato di guardargli le scarpe, neanche un filo di polvere. Isidore sta mettendo a posto gli arnesi da pesca e alza gli occhi quando Maigret, con l'aria del parigino sprovveduto, gli chiede. Li ha presi alla traina? Non credo. Gli avevo messo in barca delle esche vive. Quando la traina non funziona, il signor Blaise, che conosce i posti giusti, usa quelle. È raro che torni a mani vuote. Permette? Maigret sale sulla barca e per poco non la fa rovesciare. Si china a prendere uno dei luci. Una bella bestia davvero? Abbastanza. Tre chili, tre chili e mezzo. Ma a quel punto Isidore lancia al commissario uno sguardo obliquo e si riprende i luci. Mi scusi, devo impacchettarglieli, sicuramente li porterà a Parigi. E se ne va in cucina. Che cosa stai facendo? Chiede Placida la signora Maigret. Niente, non sta facendo niente. Sta solo aspettando qualcosa. Fa finta di essere tutto preso dalla manovra di una barca a vela che cerca in vano di risalire la corrente mentre non c'è neanche un alito di vento. Trovato! Un tuffo al cuore, un lampo di trionfo negli occhi. Perché nonostante tutto sono cose che fanno piacere. Maigret sapeva che sarebbe successo, ne era sicuro. Pensare che si basava solo su vaghe intuizioni, su dettagli minimi. Deve ringraziare il cielo se nelle stanze del primo piano fa così caldo e se lui, incantato da quella notte d'agosto, ha assistito con le bretelle abbassate al sorgere del sole. Così, nella semioscurità dell'alba, ha potuto vedere Isidor mentre prendeva qualcosa dalla sua barca, un pacchetto piuttosto lungo, e lo metteva nel gavone di quella del signor Blaise. E non si trattava delle esche, che erano invece in una scatola di metallo con il coperchio forato. Sul momento, il commissario non aveva dato importanza alla cosa. È stata la telefonata di Lucca, in primo luogo. Poi, quei due lucci. Li ha esaminati bene. Andava a pesca anche lui ai suoi tempi, eppur non avendo mai preso granché, la tecnica la conosce bene. È difficilissimo staccare il luccio dal lamo. È il pesce di fiume più vorace, tanto che a volte bisogna aprirgli il ventre. Invece, quelli che ha preso il signor Blaise non hanno la minima ferita, neanche una scalfittura. E Isidor ha pescato con la rete per quasi tutta la notte. Quello che succede adesso è il logico seguito dello sguardo che Isidor ha lanciato al commissario. Passando per la cucina, l'uomo gira dietro alla casa, poi si dirige verso la Dependance, sale al primo piano, ed entra quasi furtivamente nella camera del signor Blaise, per metterlo al corrente della cosa. Quella brava donna della signora Maigret, credendo che il marito si stia annoiando, gli mormora. Avresti dovuto portarti un libro, una volta tanto che puoi riposarti? Lui non ha dubbi, dall'alto lo stanno osservando. Poi Isidor scende, con un passo felpato da gatto o da pescatore di frodo. Non ne hai abbastanza di startene lì in piedi? La finestra del signor Blaise è aperta. Maigret lo vede, si è cambiato e sta finendo di prepararsi per rientrare in città. Senta, signora Loa, mi dica commissario. Con aria non curante le fa qualche domanda. Sì, il signor Blaise arriva con il treno il sabato sera e di solito riparte la domenica alle sei. Anzi, è quasi ora che prende il traghetto a Monte della Diga. No, non è mai venuto in macchina. Le donne, che strana idea. Lei non ci ha mai fatto caso, ma pensa che non gli interessino affatto. Non è mai venuto al Bopigione in compagnia. Come? Nelle ville di fronte? Neanche a quello ha mai fatto caso, ma è impossibile dato che lui è sempre fuori a pescare. D'altra parte, le poche ville che si vedono sono abitate da famiglie parigine dell'alta borghesia. I Mallet, che si occupano di trasporti fluviali, hanno gli uffici in che Voltaire, i Durois, persone anziane che... Sssst, eccolo che scende. Il signor Blaise deve avere l'età di Maigret, ma sembra molto più giovane. È evidente che si cura parecchio e che fa una vita tranquilla. Allora, cara signora Roy. Allora, signor Blaise, a quanto pare ha fatto buona pesca. Non c'è male. Poi la donna aggiunge in tono confidenziale per punzecchiarlo. E ha dormito bene? Lo confessi. Lei pesca dalla mattina alla sera e quando la sua barca è ormeggiata in mezzo alle canne? Non dormo mai durante il giorno, risponde lui, fatto sì improvvisamente brusco. Oh, non ci sarebbe niente di male. Poco fa il signor Maigret. L'altro ha una reazione immediata. Si volta distinto a guardare il commissario, come se fino a quel momento avesse ignorato la sua identità. Squilla il telefono. Maigret stacca la cornetta e sente la voce di Luca, il che non sembra stupirlo. La signora è tornata a capo. No, non in taxi. È arrivata a piedi dalla parte di Rue Amsterdam. Poco dopo il suo rientro è uscito il vecchio. Tutto tranquillo, si fa la solita passeggiata. Ho incaricato un agente di sorvegliarlo mentre le telefono. Che cosa devo fare? È la tipica frase di Luca. Maigret gli dà alcune istruzioni molto dettagliate. Toh, il signor Blaise se n'è andato, nota poi uscendo dalla cabina. Guarda il traghetto già lontano, ma il suo uomo non c'è. Mi dica, signora Roy, com'è che non ha attraversato il fiume? Il signor Blaise? Ah sì, proprio quando l'hanno chiamata al telefono c'erano dei clienti che stavano andando via in macchina. Li conosceva già? No, tant'è che scusandosi ha chiesto se potevano portarlo fino a Corbei perché aveva paura di perdere il treno. E i luci li ha presi? Certo, aveva il suo pacchetto sotto il braccio. Naturalmente lei non ha notato il numero di targa della macchina. La donna rimane sbigottita. Ma che cosa va a pensare, signor commissario? Un uomo come il signor Blaise. È a lui che chiedo sempre consiglio per i miei investimenti. Sa tutto di quello che succede in borsa. Lei conosce il suo indirizzo di Parigi? Sarà nel registro. Aspetti, ma mi chiedo come possa pensare. Io non penso niente, signora Roy. Vediamo. B, Blochet, Bardamont, Blaise, 25, rue Notre-Dame de Lorette. La signora Roy fa una risatina nervosa. Non capisco, come lei? Bah, in fondo si sa che i poliziotti hanno la mania di sospettare di tutti. Permette che faccia un'altra telefonata? Chiama il capo stazione di Corbei. No, il treno per Parigi non è ancora passato. Arriverà tra pochi minuti. Una persona con quei connotati? D'accordo, sarà richiamato. Parigi, polizia giudiziaria. 25, rue Notre-Dame de Lorette. Chi è di guardia? Dupré? Va bene, ma che cerchi di non farsi notare. La signora Roy si aggira per la cucina con aria risentita. Mi fa portare un bicchierino di Calvados? Il commissario aspetta la telefonata. Non si sorprende affatto quando gli dicono che alla stazione di Corbei nessuno che corrisponda alla descrizione del signor Blaise ha preso il treno per Parigi. Due ore dopo, mentre gli ospiti del Bopigion si mettono a tavola e qualche automobile comincia a partire, telefona anche Dupré. Il signor Blaise non è tornato a casa. Dormiamo ancora qui? Chiede la signora Maigret. Il letto è così piccolo. Non dico per me, ma per te. Ieri notte non hai quasi dormito. Che cosa importa? Quando Isidore ormeggia le barche dei clienti, Maigret è lì in riva al fiume con aria sorniona. È davvero buffo? Esclama a un tratto. Che cosa è buffo? Che i pescatori abbiano tutti la stessa mania. Se crede che io non abbia capito. Quello non vuole fare la figura del novellino per bacco. Ne va del suo onore. Quindi è lei che... Isidore ha un momento di esitazione, ma alla fine gli strizza l'occhio. Beh, per un buon cliente si può, certo. Attacca a suonare il grammofono. Ci sono solo tre coppie che ballano all'aperto sotto i grandi alberi. Alle undici squilla il telefono. Dupré finalmente. Il signor Blaise è appena rientrato. Come? I lucci? No, non aveva nessun luccio. Ma di che sta parlando, capo? Devo rimanere qui? Va bene, d'accordo. Decine di migliaia di parigini tornano a casa con un sapore di campagna e di sudore sulle labbra, e con le macchine piene di fiori raccolti nei prati o nei boschi. Pronto, capo? Questa volta è Luca. Niente. Il vecchio è rientrato alle sette. Non è uscito nessuno. Devono essere tutti a letto perché le luci sono spente. Passo la consegna a Janvier? Buonanotte, capo. Grazie. Sembra il coprifuoco di una volta. Cittadini, dormite in pace. Arriva un'ultima telefonata. È l'ispettore di guardia in Rue Colancourt. Niente da segnalare. Qualcosa però è successo in quella radiosa domenica, anche se quello che si è percepito è solo un vago rimescolio, come le bolle che affiorano alla superficie dell'acqua rivelando la presenza di un pesce che smuove il limo del fondo. E se mi facessi dare un'altra camera in modo che con un letto tutto per te tu riesca a dormire? Sorge la luna. Il grammofono tace, ma una coppia si muove nell'ombra facendo ancora scricchiolare la ghiaia. Capitolo V. Un signore che protesta. Quel giorno Maigret era quasi arrivato al punto di vergognarsi del mestiere che faceva. Ogni tanto, come un attore che approfitti di un momento in cui non è di scena per rilassarsi un po' e detergersi il sudore, andava nell'ufficio accanto dove c'era Luca, il quale, anche lui tutt'altro che soddisfatto di sé, sembrava chiedergli con lo sguardo. Niente? Niente. Maigret beveva un sorso di birra e poi si piazzava davanti alla finestra aperta, scuro in volto, teso, quasi nauseato. Lei che cosa fa? È la terza volta che si rivolge all'usciere insistendo per parlarle. Gli ha chiesto addirittura di poter vedere il capo della polizia giudiziaria. Era un po' il lato comico della vicenda. Alle due, ora della convocazione inviata a Octave Lecluaghen, dalla finestra il commissario aveva visto un taxi fermarsi in chiede d'Orfevre. Anziché l'interessato, però, ne era scesa la moglie, mentre la macchina era rimasta ferma accanto al marciapiede. Con un sorriso, Maigret aveva dato un ordine al suo ispettore. Sì, era iniziata davvero come una farsa. Ha una convocazione? Aveva chiesto l'usciere tutto serio. Lei è il signor Octave Lecluaghen? Desidero vedere il commissario, gli spiegherò io. L'avevano fatta accomodare nella famigerata sarà d'aspetto con i divisori di vetro dove i pazienti, così li chiamavano, sotto lo sguardo impassibile o ironico dei poliziotti, si sentivano un po' come delle bestie in gabbia. Nel frattempo, un ispettore era sceso a prendere Lecluaghen che aspettava nel taxi. È stata mia moglie a dire che devo venire di sopra? No, il commissario. E mia moglie dov'è? Adesso erano quasi tre ore che il vecchio, con il suo immancabile cappotto verdastro, se ne stava lì, seduto sulla stessa sedia, davanti alla finestra aperta nell'ufficio di Maigret. Ogni volta che il commissario tornava, dopo essersi rilassato un momento nell'ufficio di Lucat, appena varcata la soglia si vedeva di fronte gli occhi chiari di Lecluaghen, dallo sguardo simile a quello di un cane che non si aspetta granché dall'uomo, ma sa di non potersi sottrarre al suo dominio. Sì, proprio questo si leggeva nello sguardo del vecchio, una rassegnazione che suscitava pietà perché era chiaro che per arrivare a quel punto doveva aver sofferto molto. Più di una volta aveva chiesto, «Dov'è la signora Lecluaghen?» «È di là che aspetta». Ma questa risposta non lo rassicurava affatto. Sapeva bene quanto fosse insofferente e autoritaria quella donna e immaginava che non sarebbe certo rimasta tranquillamente seduta in una sala d'attesa. Maigret, al solito, aveva iniziato con quel che chiamavano «la canzonetta», un interrogatorio bonario e cordiale che lui conduceva con l'aria di scusarsene e di non attribuirgli alcuna importanza, come se si trattasse di una semplice formalità. «L'altro giorno ho dimenticato di chiarire un punto. Lei ci ha detto che quando hanno bussato in quel modo particolare alla porta dell'Indovina, la donna le stava facendo le carte, vero?» Lecluaghen ascolta senza rispondere, con l'aria di non capire. «E la signorina Jeanne l'ha spinta verso una porta che poi le ha chiuso alle spalle. Ora, vorrei sapere se aveva lasciato le carte sul tavolino o se invece le aveva raccolte. Cerchi di ricordare. Non c'è alcuna fretta. Il giudice istruttore, chissà poi perché, attribuisce a questa domanda un'importanza che a me sembra eccessiva». Lecluaghen resta immobile e sospira. Ha le mani posate sulle ginocchia e su quelle mani fuori dal comune si concentra di nuovo l'attenzione di Maigret, come era già successo nel taxi. Cerchi di rivivere la scena. Fa caldo, la porta finestra del balcone è aperta, la stanza è inondata di luce e le carte variopinte sono posate sul marmo del tavolino Luigi XVI. Gli occhi del vecchio sembrano dire «Non capisce che soffro, che sta torturando un povero diavolo del tutto indifeso?». Maigret distoglie lo sguardo pieno di vergogna e mormora in tono gentile «Risponda, la prego». Questo non è un interrogatorio ufficiale, dal momento che le sue risposte non vengono messe a verbale. «Quelle carte sono rimaste sul tavolino, vero?» «Sì». «Ne è sicuro?» «Sì». «La signorina Jeanne le stava facendo i tarocchi?» «Sì». Allora Maigret si alza, si dirige verso la porta, chiama Luca e dice con voce severa «Senta, ispettore, devo constatare che le sue informazioni non sono esatte, perché non posso credere che il signor Lecluaghen mi abbia mentito». «Proprio così, perché per fare il poliziotto, come diceva un ex ministro degli interni, ci vuole un bel po' di pelo sullo stomaco e del resto gli assassini hanno forse degli scrupoli?» «Ispettore, lei mi ha assicurato che la signorina Jeanne non faceva mai le carte e che nel suo appartamento neppure ce n'erano». «È così!» «Tutte le testimonianze concordano. La signorina Jeanne non era una cartomante, bensì un'indovina che si serviva di una sfera di cristallo per cadere in trance, come fanno gli orientali». «E allora, signor Lecluaghen? Forse lei prima ha frainteso la mia domanda o ha risposto senza riflettere. Sul tavolino di carte non ce n'erano, vero?» La fronte rugosa del vecchio è imperlata di sudore. «Non so!» sussurra con un gemito. «Ci lasci soli, Luca. Mi perdoni se tocco un tasto così delicato, signor Lecluaghen. Mi sembra di capire. È chiaro che la sua vita in famiglia non è particolarmente felice. Date le circostanze, come molti uomini della sua età, lei ha cercato conforto altrove, un'amicizia, un po' di affetto, di calore femminile. Ho capito subito che non è tipo da farsi predire il futuro. Se si trovava in Rucolencourt, se la sua amica l'ha nascosta in cucina, è perché non era là in veste di cliente. L'altro non ha più il coraggio di dire né sì né no. Quale altro colpo gli assesterà il commissario dopo essersi ritemprato nell'ufficio accanto e aver acceso la pipa con lentezza esasperante? Lei è il solo che possa aiutarci. Della vittima sappiamo ben poco. A Parigi ha cominciato a lavorare facendo la sartina e poi la modella. In seguito ha messo su una piccola sartoria in Rue Saint-Georges, denominata Chezhan, che esiste tuttora. Gli affari le sono andati male e allora si è trasferita in Rucolencourt. Chi frequentava? Chi erano i suoi amici? Ecco quello che sarebbe importante stabilire. Non so niente. Andiamo. Capisco la sua discrezione, ma non dimentichi che il nostro unico scopo è di punire l'assassino della sua amica. All'improvviso, con grande turbamento di maigret, il vecchio comincia a piangere a calde lacrime, in silenzio e immobile, senza nemmeno asciugarsi gli occhi, con le mani nodose sempre posate sulle ginocchia. Per nascondere il turbamento, il commissario è costretto a voltargli le spalle e a mettersi a guardare dalla finestra un convoglio di chiatte che passa lento sul fiume. Tutto questo non riguarda né sua moglie né nessun altro. Posso anche capire che lei, essendo ricco, abbia aiutato finanziariamente una giovane in difficoltà, perché di sicuro qualcuno l'aiutava. I pochi clienti che aveva non potevano bastarle per mantenersi, dato che la signorina conduceva una vita non lussuosa ma agiata. Lei, d'altra parte, ha un reddito di 200.000 franchi. La commedia continua. Maigret sfoglia con non curanza degli incartamenti sparsi sulla sua scrivania. Uno dei miei uomini si è dato da fare e ha preso informazioni su di lei, piuttosto interessanti. Tutto quello che abbiamo saputo torna a suo onore, peraltro. Trent'anni fa lei era medico di bordo su un piroscafo che faceva la rotta dell'estremo oriente. Fra i viaggiatori c'era un ricchissimo allevatore argentino accompagnato dalla figlia. Ed ecco che sulla nave scoppia un'epidemia di febbre gialla. Maigret continua a fare finta di consultare le sue scartoffie. Sembra che in tale occasione lei si sia comportato in maniera ammirevole, riuscendo a evitare il panico. Inoltre ha salvato la ragazza. In compenso si è ammalato e all'arrivo in porto hanno dovuto sbarcarla. Allora l'argentino, in segno di gratitudine, ha deciso di assicurarle un vitalizio di 200.000 franchi. Complimenti signor Lecluagen. Ritornato in Francia, ha sposato la ragazza con cui era fidanzato. Rinunciando per sempre a navigare, si è stabilito a San Rafael, dove per molto tempo ha fatto la bella vita. Purtroppo però, col passare degli anni, sua moglie è diventata sempre più avara e dispotica, e a Parigi le cose sono cambiate. Probabilmente il vecchio si sta chiedendo quanto durerà ancora quel supplizio, che a ogni istante sembra sul punto di concludersi. Di tanto in tanto, Maigret si alza e va verso la porta sorridendo, come se avesse portato a termine il proprio compito. Ma poi cambia idea. Ha un'altra domanda da fare. Oh, una domandina da nulla. A proposito, quando ha avuto quell'incidente? È successo a San Rafael poco prima della partenza per Parigi, vero? Stava tagliando della legna, tanto per passare il tempo, dato che allora aveva due domestici. Si è dato un colpo con l'ascia e, guarda caso, si è tranciato di netto la prima falange dell'indice destro, il che deve crearle parecchi fastidi. Mi sembra di non avere altro da chiederle, signor Lecluagen. Coraggio, è finita. Ma pare che il vecchio abbia capito il metodo di Maigret, giacché non accenna ad alzarsi e si limita a guardarlo come a chiedergli se può davvero andarsene. Ieri mi ha parlato di lei un suo amico. Aspetti, devo avere la sua foto nel cassetto. È un'istantanea del signor Blaise, scattata mentre cammina per i Grand Boulevard. Vediamo un po'. Com'è che si chiama? Impossibile che non si ricordi di lui. Mi ha detto... Versaglio mancato. Lecluagen guarda la foto senza la minima reazione. Si direbbe anzi con un certo sollievo, come se avesse temuto chissà cosa. Non le ricorda nulla? È molto che vi siete persi di vista? Non importa. Maigret va di là e Luca gli strizza l'occhio dicendo... Credo che quella donna stia per dare in escandescenze. Non riesce più a controllarsi. Ogni cinque minuti si rivolge all'uscere e continua a insistere ad alta voce per parlare con il grande capo. Minaccia di raccontare tutto alla stampa e alle sue conoscenze altolocate. Sono tre ore che la signorale Clouagen aspetta. Tre ore che il vecchio viene interrogato da Maigret. Ma il commissario non molla. L'idea che quell'uomo nasconda un mistero lo esaspera. Eppure non può fare a meno di provare per lui una strana simpatia che non è soltanto pietà. La canzonetta continua secondo lo schema consueto. Maigret assume un'aria più seria un po' imbarazzata. C'è un fatto nuovo che non semplifica di certo le cose. Il giudice istruttore mi comunica che si è appena presentato in procura un testimone. È uno che abita in Rue Colancourt proprio di fronte al 67 bis. Sostiene di averla vista poco dopo le 5 di venerdì gettare dalla finestra una chiave. La chiave è stata ritrovata. «Non me ne importa niente», replica Le Clouagen con un sospiro. «Eppure questo aggrava la sua posizione e…» Maigret posa una chiave sulla scrivania. «Signor commissario, lei sa benissimo che non è vero», mormora il vecchio con disarmante remissività. «Insomma, signor Le Clouagen, ammetta che la sua vita è quanto meno bizzarra. Lei è ricco, intelligente, è stato un brillante medico di bordo dotato di grande coraggio come testimonia il suo stato di servizio. Poi all'improvviso si mette a vivere come un miserabile. A casa sua la chiudono in camera come se fosse un personaggio impresentabile e passa le giornate a vagare per le strade e lungo il fiume. Che cosa è successo per provocare un simile cambiamento? Perché ha lasciato San Rafael per trasferirsi a Parigi? Perché?» Le Clouagen solleva il capo e mormora con gli occhi chiari pieni di un tragico candore. «Lai sa benissimo che sono pazzo». «Vuole forse dire che certe persone, sua moglie e magari anche sua figlia, cercano di convincerla che è pazzo». Scuote la testa e ripete impassibile «No, sono pazzo davvero». Rifletta sulla gravità di quello che dice. Se anche lo fosse, cosa che io non credo, ciò non impedisce che possa avere ucciso quella donna. Le azioni di un folle sono imprevedibili. Lei si trova a casa della signorina Jeanne. A un tratto le viene in mente di ammazzarla e lo fa. Poi le torna alla ragione, è spaventato dalle conseguenze del suo gesto e per sventare i sospetti o perché sente dei passi sulle scale, si chiude in cucina e getta la chiave dalla finestra. L'altro non reagisce. «È così che sono andate le cose?» Maigret ha quasi paura di sentirsi rispondere con un sì, che pure segnerebbe la fine dell'inchiesta. Ma il risultato che ottiene è ben diverso. dopo tre ore arriva finalmente una frase che può indurlo a sperare. «Sono pazzo, ma non ho ucciso Jeanne». «L'ha chiamata Jeanne, quindi ammette che vi conoscevate molto bene. Mi dica esattamente cosa rappresentava per lei. Non abbia vergogna. Siamo abituati a sentirne di tutti i colori». «Non ho niente da dire. Sono molto, molto stanco». E aggiunge con aria timida, mortificata. «Ho sete». Allora Maigret va di nuovo nella stanza accanto e torna con un bicchierone di birra. Il vecchio sporge la testa in avanti per bere e il livello del liquido diminuisce mentre il pomo d'Adamo va su e giù. «Dov'è andata sua moglie fra le undici e le quattro di domenica? Non sapevo neanche che fosse uscita. Lei era chiuso in camera sua?» China il capo senza rispondere e Maigret darebbe chissà che cosa per un attimo di sincerità. «Non gli è mai accaduto di trovarsi davanti un uomo che gli ispirasse un tale senso di mistero e ne sono passati tanti in quell'ufficio del Qued des Orfevres. È irritato e insieme commosso. A tratti sente la collera montargli dentro e sarebbe capace di… Insomma, Lecluaghen non vorrà farmi credere di non sapere niente, neanche perché la rinchiudono come un cane rabbioso. Perché sono pazzo? Un pazzo non si rende mai conto di esserlo. Eppure io sono pazzo, ma non ho ucciso nessuno, signor commissario. Non ho fatto niente di male. Lei si sbaglia, glielo giuro. Ma allora parli per Dio. Che cosa devo dire? O è l'uomo più stupido del mondo oppure? Mi guardi in faccia. Sulla scrivania ho un mandato di arresto per lei. Se le risposte che mi dà non mi convincono, stasera la mando a dormire in cella». A quel punto succede una cosa incredibile. Anziché spaventarsi, il vecchio sembra sollevato, contento, come se la prospettiva di finire in prigione fosse ai suoi occhi allettante. Forse l'idea di sfuggire alla tirannia delle due donne. «Perché accetta tutto passivamente senza lamentarsi? Me lo dica da uomo a uomo. Tutti i suoi vicini parlano di lei o con disprezzo o con commiserazione. Mia moglie si prende cura di me. Mandandola in giro in qualsiasi stagione con un cappotto che neanche un barbone accetterebbe di indossare? Non dandole nemmeno i soldi per comprarsi il tabacco? Ieri un ispettore l'ha vista a raccogliere una cicca per strada come un mendicante e lei ha 200.000 franchi di rendita? L'altro non risponde. Megre si arrabbia. «La chiudono nella stanza più buia e mal ridotta della casa. Quando ci sono degli invitati la nascondono come se fosse un essere sgradevole o ripugnante. Le assicuro che mia moglie si prende cura di me. Forse vuol dire che sua moglie e sua figlia non la lasciano morire e sa benissimo perché. Quando l'allevatore argentino per riconoscenza le ha assegnato una rendita. Ha redatto il documento, magari senza pensarci, in modo tale che quando lei morirà i suoi eredi non prenderanno più un soldo. La rendita di 200.000 franchi viene versata unicamente a suo nome. È questo il motivo per cui, come dice, si prendono cura di lei e lo sa benissimo, vero? Possibile che quell'uomo sia un santo? Le giuro, signor commissario. Di questo passo finirà per farmi uscire dai gangheri. Stia bene a sentire. Per ora non la arresto. Spero che pensandoci su lei capisca che la cosa migliore da fare è dirmi tutta la verità. Luca! Luca! Appena entrato nell'ufficio, l'ispettore si accorge che il commissario è in un bagno di sudore e che riesce a stento a trattenere la collera. Fa entrare la signora Leclu again. Subito le mani del vecchio cominciano a tremare e la fronte gli si imperla di nuovo di quel maledetto sudore dovuto alla paura. Viene quasi da pensare che le due donne lo picchino. Venga avanti, signora. Silenzio! Mi faccia il favore di stare zitta. So che è indignata per aver aspettato parecchio, ma la colpa è soltanto sua. Silenzio! Io non ho convocato lei, bensì il suo marito, che è abbastanza grande per venire da solo fino al che desorfèvre. Sappia che la prossima volta lei qui dentro non ci metterà piede. Glielo restituisco. Non so ancora se mi chiederanno di adottare altri provvedimenti nei suoi confronti. È comunque probabile che sarà sottoposto a visita psichiatrica, così sapremo se è pazzo o no. Adesso può andare. La prego di andarsene, ha capito? Ecco, da brava. Vada a protestare con chi le pare. A rivederla, signora. Uff! La porta viene finalmente richiusa. Luca guarda stupito il commissario, che dopo essersi asciugato il sudore, ritrova poco a poco la calma e arriva perfino a sorridere. Allora? Niente, caro il mio Luca. Assolutamente niente. Non la posso vedere neanche dipinta quella donna, tutto qui. Non so cosa darei perché avessero trovato lei invece del marito nella cucina di Rucolancourt. Luca sorride. Non ha mai visto Megre così arrabbiato. Questo mi fa pensare che... prosegue il commissario con aria improvvisamente assorta. Resta un attimo in sospeso, con lo sguardo fisso sulle luci del lungo Senna e sul brulichio variegato del Pont Saint-Michel. Cosa le fa pensare? Niente. Dobbiamo sapere con assoluta certezza dov'era quella donna venerdì pomeriggio. Te ne occuperai tu. Perché non le ha chiesto che cosa ha fatto Domenica? Perché no? In realtà è convinto che lei si aspettasse una domanda simile e avesse la risposta già pronta, e che fosse così agitata e fuori di sé proprio perché non le hanno chiesto un bel niente. E magari in quel momento, sul taxi che la porta via, è assalita da paure di ogni genere. Lei pensa che... Non penso niente. Magari, chissà, farò un salto a San Rafael. E quell'altro bel elemento, quell'imbecille di Mascouven? Hai telefonato all'hotel Dieu. Sta abbastanza bene. Sua sorella è andata a trovarlo, ma lui non l'ha riconosciuta. Ci vorrà ancora qualche giorno. E quel tizio del cabriole verde? Niente. Si vede che ha cambiato macchina. Abbiamo controllato una ventina di cabriole verdi e la commessa della latteria non ne ha riconosciuto nessuno. Qualcuno bussa alla porta. È l'uscere. Il capo vuole vederla, signor commissario. Maigret e Luca si scambiano un'occhiata. Non è mai buon segno quando è in corso un'inchiesta. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, una contestazione, delle proteste o altro del genere. Maigret non è dell'umore più adatto a ricevere un rimprovero e neanche un consiglio. Basta vedere come stringe il cannello della pipa fra i denti. Spinge la porta imbottita. Mi ha fatto chiamare? Con un'espressione ambigua, forse irritata o forse semplicemente ironica, il grande capo gli porge senza una parola la lettera che ha appena ricevuto. Maigret legge. Egregio capo della polizia giudiziaria. Ho l'onore e il privilegio di portare a sua conoscenza taluni fatti che, qualora non venissero adeguatamente chiariti, giustificherebbero da parte mia una querella nella debitaforma. Domenica scorsa, tornando a casa dalla mia gita abituale a Morsang-sur-Seine, ho appreso dalla custode che poco prima un individuo qualificatosi come ispettore di polizia era entrato in portineria e le aveva posto parecchie domande circa la mia persona, la mia situazione economica e le mie abitudini. La custode ha omesso di chiedere a quell'individuo la tessera di identificazione, il che mi induce a credere che si tratti di un falso poliziotto. Infatti, guardandola alla finestra, l'ho visto che mi spiava dal Vieux Puy, un piccolo caffè situato in Place Saint-Georges. Probabilmente, sapendo che vivo da solo e che abitualmente mangio al ristorante, aspettava che uscissi per sottoporre a una visita fruttuosa il mio appartamento. Non le nascondo infatti che gioco in borsa, come è consentito a qualunque cittadino francese, e che non di rado tengo in casa somme di denaro ragguardevoli e anche titoli. Ho segnalato i fatti sopra elencati al commissario di polizia di zona e ho chiesto la protezione degli agenti. Poco dopo, ho visto effettivamente arrivare in rue Notre-Dame de Loretto un vigile urbano in uniforme. Il tizio che mi spiava gli ha rivolto la parola. I due si sono stretti la mano e il vigile si è allontanato scrollando le spalle. L'indomani mattina quel tale era ancora lì. Gli si è avvicinato un uomo di una certa età, dai lineamenti molto marcati e dagli abiti di pessimo taglio, e i due sono andati insieme a bere qualcosa al Vieux Puy. Il grande capo non riesce a trattenere un sorrisetto davanti all'espressione accigliata di Maigret, giacché è chiaro che l'uomo in questione non è altri che lui. Non posso fare a meno di pensare che si tratti di una banda organizzata che ha preso di mira i miei soldi. Per tutta la giornata di lunedì sono stato pedinato da individui, tutti piuttosto male in arnese, che a quanto pare si davano il cambio. Quando infine, come tutte le settimane, mi sono recato alla Prude Drouen, l'agenzia immobiliare che si occupa dei miei investimenti, sono venuto a sapere che l'uomo dai lineamenti marcati che fuma la pipa era andato a chiedere se sono cliente della ditta. La prego di voler provvedere con la massima sollecitudine a chiarire questi fatti e a mettere fine a uno stato di cose che mi pare inquietante. In attesa di una sua risposta, la prego gradire i sensi della mia massima stima. Emile Blaise, possidente, 25, rue Notre-Dame-de-Lorette. E allora, caro Maigret? Il commissario, che aveva i nervi a fior di pelle ancora prima di entrare nell'ufficio del grande capo, sbuffa con l'aria minacciosa di un orso arrabbiato. Che cosa ne pensa? Oh, questo signor Blaise è... Il signor Blaise? Il signor Blaise se ne frega di lei, capo, sbotta Maigret. Anche di lei, a quanto pare. Anche di me, sì. È vero che lei è andato alla Prude Drouen? È vero, e avevo maledettamente ragione. Sarebbe troppo lungo spiegarle tutti i particolari. Si ricorda di Mascouven, quello della famosa carta assorbente? Ebbene, lui lavorava alla Prude Drouen. Ma che c'entra il signor Blaise? Aspetti, chi è stato a scoprire il delitto? Una certa signora Rouat, padrona del Boppigion a Morsang. Continua a non capire. La signorina Jeanne andava spesso a Morsang. Il signor Blaise ci va ogni settimana e pesca dei lucci che sono già stati pescati. Senta, Maigret, comincio a credere? Io invece credo di cominciare a capire. Mascouven ci avverte del delitto prima che venga commesso. Qualcuno uccide la signorina Jeanne all'ora prevista. La signora Rouat ne scopre il cadavere qualche minuto dopo. Il signor Blaise è cliente sia dell'agenzia Prude Drouen che della signora Rouat. C'è solo questo Le Clou again? Maigret resta assorto per un attimo. I punti di contatto sono già due, la Prude Drouen e Morsang. Penso che stasera andrò a lezione di bridge. Lezione di bridge? Dalla contessa. Una signora molto distinta, a quanto pare, che ha avuto dei rovesci di fortuna e si guadagna da vivere invitando gente che soffre di solitudine a giocare a bridge nelle sale del suo circolo in Rue de Pyramid. A pagamento, si intende. Mettiamo che il signor Blaise sia uno dei suoi clienti. E allora? So bene che questo non proverebbe niente. Deve ammettere però che sarebbe una bella coincidenza, dato che Mascouven, impiegato alla Prude Drouen, ogni sera andava a giocare a bridge dalla contessa. «Se solo quella bestia di Leclu again...» Il capo scrolla leggermente le spalle, come a dire «Lasciamo perdere, non è il momento di contrariarlo». Quindi porge la mano al commissario. «Buona fortuna, Megre. A proposito, forse sarebbe meglio usare una certa discrezione con quel signor Blaise. Sembra un tipo suscettibile, deciso a piantarci delle grane. Basta che il caso finisca sui giornali, che tiri dentro nella faccenda un qualche deputato e...» «Certo, certo. Saremo prudenti, capo. Ma si vede che lei non ha passato tre ore a quattro occhi con un tipo assurdo come Leclu again». Capitolo VI Megre scopre Picpus Diversi esperti si erano scervellati sull'enigma del sedicente Picpus e milioni di persone, aprendo il giornale, si precipitavano a cercare quel nome nei titoli a caratteri cubitali. Ormai non si parlava più d'altro. «Non hai visto Picpus?» «E Picpus? Come sta Picpus?» Certi tassisti poi avevano trovato un nuovo epiteto con cui appostrofare i colleghi un po' imbranati. «Dai, Picpus, muoviti!» Ma fu una mosca, una volgarissima mosca domestica, che permise di scoprire il famigerato Picpus. Quella mattina, Megre si era alzato più tardi del solito, perché era rimasto dalla contessa fino alle due di notte. L'aria era ancora gradevolmente fresca, ma il sole che inondava le case preannunciava una giornata calda. Il commissario, a cui piaceva molto gironzolare per Parigi nell'ora in cui si sveglia e si fa bella, non era andato direttamente da casa sua al Quedez Orfevre, ma camminando l'MLM, come uno che non ha niente da fare, aveva allungato la strada passando per Place de la République. La sera prima, al circolo di Bridge, aveva fatto il finto tonto. Appena arrivato, gli era corsa incontro la contessa, avvolta in veli fluttuanti, da mettere in vidi a una amorosa della comédie francese. «Sst! Venga con me, caro commissario! Se sapesse come sono emozionata di ricevere un uomo famoso come lei!» Poi l'aveva trascinato in un boudoir, continuando a oblaterare e a supplicarlo di evitare uno scandalo in casa sua. Lei riceveva solo persone molto perbene, gente in vista nella buona società. Poco fa stavo giusto dicendo al principe. Era tutta eccitata e posava di continuo la mano, carica di anelli falsi, sul ginocchio del commissario, che la guardava con occhi assolutamente inespressivi. «Davvero desidera trascorrere una serata con noi? No, non conosco nessun signor Blaise. La descrizione che me ne ha fatto non corrisponde a nessuno dei nostri amici, perché sa, qui siamo tra amici, anche se ognuno contribuisce alle spese, come è naturale in tempi così difficili». Cinque minuti dopo, presentò Maigret, la cui immagine compariva molto spesso sui giornali, come un colonnello in pensione, e lo fece sedere al suo tavolo da bridge, quello dei principianti, per insegnargli il gioco. Intanto, però, trovava il tempo di avvertire tutti, passando da un gruppo all'altro e bisbigliando. «È il famoso commissario Maigret. Fate finta di niente. È venuto qui in incognito a chiedermi qualche consiglio». Adesso, guardando i passanti per strada, il commissario pensava che a Parigi vivono sicuramente migliaia di tipi strani di quel genere, esistenze misteriose e bislacche, che capita di scoprire solo di rado quando succede qualcosa di drammatico. Arrivò al café des sports in Place de la République. Dopo aver esitato un attimo, incerto se scegliere il bancone o la sala, decise di sedersi al posto solitamente occupato da Joseph Mascouven. La sua mente, intanto, continuava a rimuginare. «Picpus». «Perché Picpus?». «Il nome di una strada popolosa di un quartiere nei pressi del Perlachaise». «Cameriere? Una birra?». «Subito, signor commissario, cambio il fusto». Nestor stava facendo le pulizie, con le maniche rimboccate sulle braccia pelose. Il locale era vuoto. C'era solo in un angolo una ragazza di provincia con accanto la sua valigia. Probabilmente era in attesa di qualcuno e stava bevendo un caffè. «Allora, commissario, quel povero signor Mascouven?». Così dicendo, il cameriere si chinò a posare la birra sul tavolino. Il commissario guardò il suo cranio calvo, o più esattamente seguì con gli occhi il volo di una mosca che andò a posarvisi sopra senza che l'uomo adesse segno di accorgersene. Dalla mosca, dal cranio lucido, lo sguardo si spostò un po' più in là e all'improvviso Megre emise un grugnito e fece per alzarsi di scatto, con grande meraviglia di Nestor, il quale, voltatosi bruscamente e non vedendo nessuno, rimase di stucco dinanzi all'improvvisa eccitazione del poliziotto, noto per la sua imperturbabilità. Ecco finalmente risolto l'enigma. Picpus era lì, sulla parete, di fronte al tavolino al quale ogni giorno sedeva Joseph Mascouven e dove probabilmente era stata scritta la lettera che preannunciava la morte dell'indovina. Come avrebbe riso la gente se i giornali avessero pubblicato la foto del famoso Picpus? Al di sopra della slot machine c'era un enorme calendario di quelli che certe ditte regarano ai clienti per farsi pubblicità. Per i vostri traslochi esigete la sicurezza, affidatevi a... Era una litografia dozzinale raffigurante un maciste di periferia con un maglione a righe, la barba irsuta di un color rosso vivo, la faccia paonazza e i muscoli da olimpionico che faceva l'occhiolino alla clientela reggendo in equilibrio sulle spalle un armadio a specchi «Affidatevi a Picpus!». Queste parole scritte in maiuscolo saltavano all'occhio e sotto, a caratteri più piccoli, si leggeva «Trasportatori associati, 101 rue Picpus, Parigi». Dunque Picpus non esisteva, non era altro che un'immagine grottesca, uno slogan pubblicitario. Qualcuno, una sera, era venuto a sedersi a quel tavolino per scrivere un biglietto, poi aveva avuto un attimo di esitazione, come firmare. Il suo sguardo, dopo aver vagato per un po', si era fermato sul calendario. «Picpus!». Senza cercare oltre, l'uomo o la donna, aveva scritto, magari con un sorrisetto beffardo, «Firmato Picpus!». Bisognava scoprire chi si era seduto lì su quel sedile in finta pelle, chi aveva usato l'inchiostro violetto e la penna da quattro soldi che il caffè de sport metteva a disposizione dei clienti. Una sola cosa era certa, quella persona non si era sbagliata, sapeva tutto. «Cameriere, quant'è?». Maigret avrebbe voluto portarsi via il calendario per il suo museo del crimine, ma decise che sarebbe venuto a prenderlo un altro giorno, a inchiesta conclusa. Dal momento che era a due passi dal boulevard Bonnouvelle, pensò di approfittarne per fare un salto alla Prude Drouin. La prima volta, infatti, non era riuscito a parlare con i titolari. Nello stabile c'erano diversi uffici, la scala era polverosa. Sulle finestre del secondo piano, schermate in parte da vetrate verdi, spiccavano i nomi dei due soci. «Il signor Prude, per favore, desidera parlare personalmente con lui?». «Sì, è una faccenda personale. Il signor Prude è morto tre anni fa». Con malcelata irritazione, Maigret chiese allora all'impiegato, che sorrideva tutto soddisfatto, di parlare con il signor Dwayne. Qualche minuto dopo, venne introdotto nell'ufficio del principale, un cinquantenne dallo sguardo sospettoso. «Sia comodi, signor commissario. Ho trovato il suo biglietto da visita sulla scrivania e devo confessarle che...». «Capisco, signor Dwayne. Tuttavia, siccome è necessario che io le faccia qualche domanda, se a proposito di un cliente, devo avvertirla che siamo tenuti a un riservo assoluto e che per di più ci consideriamo vincolati da segreto professionale». «Può dirmi, signor Dwayne, se per lei Joseph Mascouven era un impiegato onesto?». «In caso contrario l'avrei licenziato. Svolgeva delle mansioni importanti qui dentro?». Il signor Dwayne si alza e va ad assicurarsi che al di là della porta nessuno possa sentire quello che dice. «Date le circostanze e il mistero che circonda il gesto di quel pover uomo le dirò che lo tenevo più che altro per compassione». «Non era soddisfatto di lui?». «Cerchi di capire. Non ho niente da rimproverargli dal punto di vista professionale. Al contrario, era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Mai che io l'abbia scoperto a leggere di nascosto un giornale o un libro o a fumare una sigaretta al gabinetto. E nemmeno si è mai inventato una disgrazia in famiglia, che so, la morte della nonna, la zia ammalata, per chiedere una giornata di permesso. Anzi, era fin troppo coscienzioso». «Cosa intende dire?». «Era di una coscienziosità maniacale, dovuta forse alla sua infanzia. Infatti, a quanto ho saputo, era un trovatello. Aveva sempre l'impressione che gli altri lo tenessero d'occhio, che fossero scontenti di lui, che lo sospettassero. Perciò era un tipo ombroso e io non ho mai avuto il coraggio di fargli un'osservazione. Era così suscettibile. Ai colleghi non piaceva. Se ne stava sempre a lavorare nel suo angolino, ma non aveva alcun rapporto con il resto del personale». «Mi dica, signor Dwayne, si è accorto che mancano dei soldi dalla cassa di Mascuven?». L'altro rimane sbigottito. «Dei soldi? Dalla cassa?». «Ma, signor commissario, è assolutamente impossibile. Da noi è impossibile per chiunque, anche per l'impiegato più anziano, anche per il mio procuratore. Non siamo un negozio con un registratore di cassa nel quale si possa ficcare la mano di nascosto. Di soldi, di liquidi, si può dire che qui praticamente non ne circolano. Noi vendiamo immobili, castelli, ville, terreni da lottizzare. Le nostre transazioni implicano centinaia di migliaia di franchi e più spesso milioni. Inutile che io le dica che pagamenti di questo genere si effettuano sempre con assegni e per lo più alla presenza di un notaio. Quanto agli immobili che amministriamo, è più o meno la stessa cosa. E se gli affitti non vengono pagati mediante assegno è il nostro esattore che...». «Quindi lei sostiene che il suo impiegato non avrebbe assolutamente potuto rubarle mille franchi?». «È del tutto impossibile. Per di più, come l'ho già detto, il carattere di Mascuven?». «No, signor commissario, lei è sulla strada sbagliata. Mi spiace, ma...». Si alza, facendo capire che dei clienti importanti lo stanno aspettando. «Avrei un'altra piccola cosa da chiederle, che ritengo non abbia nulla a che fare con il segreto professionale. Il signor Blaise è un cliente importante della sua agenzia?». Dopo un attimo di esitazione, Druen si decide a rispondere per liberarsi del commissario. «Un cliente importante, no. Certo, le sue referenze bancarie sono ottime. Queste sono informazioni che potrà darle qualsiasi agenzia finanziaria. Ma un cliente importante per noi, no. Un cliente noioso, questo sì. Non per criticarlo. Succede di frequente. Soprattutto per chi vive di rendita e non ha niente da fare, è un passatempo come un altro. Il signor Blaise viene qui, chiede informazioni sugli affari che stiamo trattando, va a vedere i terreni o gli immobili in vendita, discute sui prezzi come se avesse intenzione di comprare, ma perlopiù la cosa finisce lì. Ecco, guardi. Prende una cartelletta con il nome del signor Blaise e un numero. Nel giro di cinque anni ha effettuato, tramite la nostra agenzia, tre acquisti. Una villetta, un podere in Bretagna e un immobile a Nizza. 600.000 franchi in tutto. Questo è quanto le posso dire, signor commissario. Mi scuserà, ma il mio tempo, come il suo, è prezioso. A questo punto, senza neanche porgergli la mano, gli chiude la porta alle spalle con evidente soddisfazione. Ma insomma, perché Mascouven, a cui nessuno aveva chiesto nulla, si è autoaccusato di aver sottratto mille franchi al suo principale. Quando il commissario arriva in ufficio, immerso nei suoi pensieri, l'usciere lo avvisa che il giudice istruttore lo sta aspettando da più di un'ora. Un altro che probabilmente è irritato per l'eccessivo protrassi della faccenda, che tirerà in ballo la stampa e le critiche e poi gli imporrà di prendere qualche provvedimento. Stringendo la pipa fra i denti, Maigret raggiunge, attraverso passaggi secondari, il corridoio dei giudici istruttori, dove in un caldo soffocante stanno in attesa gli imputati, sempre tra due gendarmi e i testimoni che guardano in continuazione l'orologio.